Per promuovere la legalità bisogna parlare di legalità e indicare i comportamenti virtuosi come i comportamenti da seguire fin dalla prima infanzia. C'è bisogno di capire il fenomeno delle infiltrazioni mafiose e quello che stiamo cercando di fare da anni abbiamo costituito un coordinamento degli amministratori di Reggio Emilia che ha avviato molte iniziative come la messa online degli appalti e tutti gli appalti che si tengono sul nostro territorio come la firma di protocolli con la prefettura per avere informazioni sui subappalti, le subforniture e così via che è quella parte un pochino più nascosta e dove avvengono le infiltrazioni e magari anche il riciclaggio. Cerchiamo di controllare anche le altre attività dal commercio all'ambiente a tutte le attività che possono essere possibile veicolo di riciclaggio o di presenza dell'andrangheta in particolare ma anche di altre mafie. Insomma ci stiamo attrezzando. Devo dire che non è semplice però vedo che stiamo ottenendo risultati e sono ottimista sul risultato finale. Io credo che ce la faremo. Certo che è importante che siano in prima fila gli amministratori, le forze dell'ordine, i funzionari dello Stato, la magistratura ma anche tutti i cittadini perché la mafia non si sconfigge se solo una parte della società la combatte. Tutta la società la deve combattere perché la mafia uccide la società e la società deve ribellarsi e deve annientare le mafie a partire appunto dall'andrangheta.